Da oltre 40 anni, la Fratelli Gervasi S.P.A. è una delle più importanti realtà europee nel settore dei veicoli industriali. Oggi si presenta come un gruppo industriale in costante espansione in tutti i paesi europei e sui principali mercati dell'Africa e del Medio Oriente. Il gruppo è così composto. Gervasi S.P.A., situata a Scalenghi, in provincia di Torino, è la sede storica del gruppo che si occupa principalmente dell'assemblamento finale dei veicoli. Gervasi Polska, ubicata a 30 km da Varsavia, rappresenta il grande polo produttivo del gruppo. GE Fra, commercializzazione di prodotti finiti per l'est Europa. GE Service, composta da un gruppo d'aziende che garantiscono un elevatissimo livello d'assistenza post vendita. GMC S.R.L., ubicata a Bologna, produce caricatori industriali di altissima qualità e rappresenta l'ultimo acquisto del gruppo. Gervasi opera principalmente su due grandi settori profondamente diversi tra loro, quale l'ambito siderurgia-ecologia e cava-cantiere. La Fratelli Gervasi S.P.A. è stata in assoluto la prima azienda di veicoli industriali ad operare nel settore dell'ecologia siderurgia, praticamente inventando e sviluppando gli attuali sistemi di raccolta e movimentazione di rottame metallico e rifiuti in generale. Essendo indiscutibilmente leader nel settore, risponde alle esigenze del mercato con svariati tipi di allestimenti, rimorchi e soprattutto semirimorchi con e senza gru, che non hanno pari in termini di leggerezza, robustezza ed affidabilità. E dalle linee di produzione di scalenghe, che tra l'altro viene prodotto forse uno tra i più conosciuti semirimorchi a livello europeo, il canguro, che rappresenta in assoluto il prodotto di punta dell'azienda. La creazione della Gervasi Polska ha dato la possibilità al gruppo Gervasi di potersi insediare fra i leader nella produzione di allestimenti e semirimorchi per cava e cantiere, con la capacità di soddisfare intere commesse di alcune tra le più grandi fabbriche di camion, quali ad esempio Iveco, diventandone collaboratrice diretta. L'obiettivo del gruppo per il prossimo futuro è quello di rafforzare la propria posizione di leader nel mercato, basandosi su un sempre più elevato livello di soddisfazione del cliente, fornendogli un prodotto sempre innovativo che meglio soddisfi le sue esigenze. Per ottenere ciò, Gervasi utilizza le più elevate tecniche di progettazione, avvalendosi dei più aggiornati pacchetti informatici, unendo ad una rigida selezione delle materie prime dei severissimi controlli qualità. Gli investimenti hanno portato ad un ciclo produttivo sempre più automatizzato, con linee robotizzate di nuova generazione, e ad un ciclo di rifinitura comprendente la completa sabbiatura automatizzata delle singole componenti con ciclo di verniciatura computerizzata, ottenuta secondo i più alti canoni di rispetto ambientale. Tutto ciò per fare la differenza. Grazie per la visione! Grazie per la visione!